Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Avete delle piante in vaso? Dove? In terrazzo, in balcone? E perché non averle anche in giardino? Siete alle prime armi con il vostro primo giardino? Ecco alcuni buoni motivi per convincervi a coltivare le piante in vaso anche in giardino. Spesso si pensa che chi coltiva le piante in vaso ha per forza un terrazzo o un balcone. Invece è una scelta interessante anche per chi ha un giardino. Adesso vi spiego il motivo perché considero questa scelta una scelta felice. In giardino o in cortile l'ossatura dello spazio la fanno le siepi e gli alberi ad alto fusto, ma se per caso coltivate poco o niente davanti alla siepe potreste sempre prendere in considerazione di usare una fila di vasi o di altri contenitori per creare masse fiorite davanti alla vostra siepe. Potreste anche usare questo suggerimento proprio come test per vedere se vi piace l'idea di coltivare delle masse fiorite in quella posizione. Non solo potreste coltivare piante perenni in vaso, ma potreste giocare con i fiori stagionali, con i fiori commestibili, con le verdure, con i piccoli frutti. La creazione di un ambiente intrigante e interessante dipenderà proprio dal vostro gusto personale. Vasi interessanti, diverse soluzioni da considerare. Potete andare a sceglierli nei garden center e li troverete di diverse tipologie, dalla terracotta alla resina alla plastica. Potreste giocare con i vasi che già possedete, che già avete a casa. Magari non ci avete mai pensato, ma se vi piace uno stile da farm americana, come spesso si trovano ad esempio su Instagram, potreste provare a coltivare ad esempio nelle cassette di legno dei vini, facile e ottimo anche come riciclo creativo, oppure anche in cesti in salice. Se ad esempio frequentate i mercatini dell'usato, sia reali che virtuali, oggi online c'è di tutto, potreste trovare dei bellissimi secchi o vasi zincati, quelli della nonna, o anche altri contenitori, ad esempio delle vecchie pentole in alluminio. Alcuni dei vasi interessanti devono gran parte del loro impatto scenografico proprio alle loro forme particolari, che possono essere alte e strette, oppure basse e larghe. Dipenderà dal vostro gusto personale nel abbinarli nel vostro giardino, nel terrazzo o sul balcone. Ma l'importante di quando si coltiva in vaso è avere un buon drenaggio, per cui ogni contenitore dovrà essere forato alla base, riempito con argilla per almeno qualche centimetro sul fondo, il tessuto non tessuto TNT e poi sabbia mescolata con il compost e infine buona terra. Come curare le piante in vaso? Se creerete delle scenografie in vaso, questo significa che sarà anche e soprattutto necessario coltivarle bene, curarle a dovere. Aggiungerete ad ogni vaso una soluzione rigenerante pronta all'uso. Questa è ideale per idratare le piante. Si chiama Nutrigoccia ed è una novità, la troverete sia nei garden center che online. È un formulato ricco di sostanze nutritive e idratanti con tutta l'efficacia del concime NutriOne. NutriOne lo conosco bene, se mi seguite da tempo sui social e sul blog sapete che lo uso sempre. Le piante non si nutrono solo di terra, bevono ma mangiano anche ed è pronto all'uso. Ciò vuol dire che tagliate il tappino rosso e poi inserite tutta la fialetta all'interno del vostro vaso. Lo potete usare sia per le piante da appartamento che per le piante con fioriture. Le fiale sono autodosanti per cui vanno appunto direttamente all'interno del terriccio e serve appunto per scatenare le fioriture delle nostre piante. Qui abbiamo la lavanda e la salvia decorativa. L'idea creativa in più da fare con Nutrigoccia. Rimuovete l'etichetta e scrivete il nome della pianta che avete nel vaso. Dovete prendere un pennello e della tempera bianca e tranquillamente potrete decorare la vostra fialetta. Io ho scritto love, welcome home e poi il nome della pianta. Vi piace come idea? Io trovo che sia molto carina. Oppure potreste scrivere anche delle frasi motivazionali ad esempio che ne so tutto cresce con amore, bloom and grow. Veniamo alla scelta dei colori. Quando si progetta un vaso singolo l'importante è moderare e limitare la paletta dei colori. Quindi aspettate a selezionare le piante che vi piacciono subito a primo sguardo, a prima vista. Dovete ragionare e abbinarle bene. Ok Dana, quali colori posso scegliere? Vi do tre suggerimenti. 1. Con tonalità fresche, ad esempio con i colori pastello. Dovete unire bianco, azzurro, rosa e pesca. 2. Tonalità avvolgenti, colori sgargianti, ad esempio magenta, ocra e verde acido. 3. Tonalità vellutate, ad esempio le tonalità calde, come ad esempio l'albicocca, il bronzo e il porpora. La creazione di un vaso spettacolare e ricco non solo dipenderà dal vostro gusto personale nell'abbinamento delle piante e dei colori, ma anche dalla densità, quindi dal sesto di impianto, delle piante stesse. Spesso per creare un pronto effetto si riduce lo spazio tra le piante, quindi qualche centimetro e meno di come avreste fatto invece in pieno campo. Come scegliere le piante e creare delle microscenografie in vaso. Vi suggerisco una regola che si usa nella progettazione grafica ed è il 60-30-10. Quindi, usare un 60% con delle piante belle, con i fiori belli da paura, potranno avere una dimensione medio-grande. Usare un 30% con delle piante che hanno delle fioriture piccoline o anche soltanto che hanno delle foglie molto decorative. Queste potranno essere sparse in maniera casuale. E l'ultimo, il 10, è il 10% con le piante riempitive, cioè che servono proprio per tappare i buchi tra una pianta e l'altra. Ad esempio, se avete dei vasi stretti e altri, e alti, potreste considerare delle piante ricadenti. Oppure potrebbero essere delle piante con una texture molto leggera. Quindi, come disporle? Opzione 1. In un vaso singolo, dividere per queste percentuali e poi scegliere le piante. Opzione 2. Ogni gruppo di vasi lo dividete con queste percentuali e creerete una massa di belle fioriture. Se pensate attentamente a cosa mettere in ogni vaso o gruppo di vasi, potrete godervi di molti mesi interessanti sia in giardino che in terrazzo che sul balcone. Spero che questo video vi sia stato di grande aiuto e andate a cercare o nei garden center o online Nutri Goccia per le vostre piante. Poi, se avete mano creativa, potete provare a scrivere sulla fialetta, altrimenti lo usate così. Ciao da Dana di Blossom Zee e al prossimo video!